Ciao a tutti, al nostro pubblico di Step Out, ciao a Tommy Marino, oggi abbiamo un ospite che volevo da molto tempo, però queste partite non ci aiutano, siamo sempre presi, quindi volevo fare il benvenuto a Thomas. Grazie per l'invito, sono molto contento di esserci, peccato che non sia live perché mi caserà un po'. Eh vabbè, ma ci arriveremo, non ti preoccupare, step by step, lo sappiamo che sei carica come una mina, come sta andando la stagione? Una stagione particolare, diciamo che a livello di squadra abbiamo dovuto metterci un po' per ingranare, soprattutto perché la squadra è cambiata tutta, praticamente. E quindi ovviamente non è semplice riniziare da capo un progetto, invece a livello personale diciamo male, per gli obiettivi che ho e per le ambizioni che ho, fanno parte del processo, quindi prendiamo tutto e si va avanti. Adoro la tua sincerità, non è scontato, non è scontato, no Tommy? No, no, infatti quando hai detto male hai detto, cavolo, è la verità, nel senso, ci sta, alla fine è vero, io sono d'accordo, bisogna andare dritti sulle cose, uno se non è contento non è contento. Ma infatti guarda, ti dico, uno dei motivi per cui sei qui, Thomas, guarda, tu non lo sai comunque, però io ti seguo da molto tempo, a livello cestistico, ti guardo, ti guardo, ti guardo, soprattutto quando abbiamo avuto, ti ricordi, quella amichevole interna a Milano d'estate, quando stavo recuperandolo? Mi piace pensarlo ugualmente, no? Sì, e ti dico, guarda, tu sei uno tra i giocatori italiani che mi ha impressionato di più negli ultimi anni, ti dico, con tanta onestà, perché di giocatori come te se ne vedono pochi, cioè col tuo stile di gioco, no? Hai la penetrazione, hai il passaggio, più sei mancino, il tuo tiro da tre, no? Ci puoi spiegare un po' come è stata la tua transizione, no? Perché tanti mi hanno detto, no, di quando tu giocavi in A2, no? Che sì, facevi il tuo, ma non facevi la differenza. Poi quando sei passato immediatamente a Varese c'è stato il boom. Ci puoi spiegare questa transizione da una squadra di A2? Poi cos'è successo? Cioè, si è andato via, ti hanno cacciato, ti è scaduto il contratto? Cos'è successo poi in questa transizione verso Varese? Ti ha provato in Serie A? Farei un passo un attimo più indietro dall'America, perché io ritorno dall'America, dopo i miei anni collegiali, e c'era tanto interesse, o comunque tanta curiosità per il giocatore che ero, comunque l'italiano che ritorna in Italia dopo aver fatto le esperienze in America, interessante, no? Peccato che ero sempre la seconda scelta per ogni squadra, cioè, sì, siamo interessati, ma quindi a quel punto abbiamo deciso con il mio procuratore di andare in A2 e fare la scalata da lì. Sebbene sia molto arrogante come pensiero, però sono abbastanza confidente che sarebbe stato sì più difficile, ma raggiungibile per questa direzione che, metti caso, tentare la fortuna in una squadra che mi voleva al 50% e poi fare la discesa, no? E quindi facendo questo passaggio pensavamo che fosse più sensato. Arrivata a Chieti, mi sono trovato un po' in disquilibrio, perché il metodo di gioco è diverso dalla A2 alla A1. è molto più... è un metodo di gioco più orientato nella, diciamo, creatività. Devi essere un po' più risolutivo per le situazioni che ci sono. Cioè, i problemi che abbiamo avuto noi furono... alcuni in squadra non sapevano gli schemi. E quindi devi arrangiarti in un modo o in un altro, devi riuscire a costruire qualcosa di buono con quello che hai, ok? Anche, comunque, la dedizione nei dettagli, l'attenzione alle piccole cose, di cui io invece ne vado molto fiero e molto contento se un singolo dettaglio viene eseguito in una determinata cosa che, ovviamente, in Serie A, data l'attenzione in tutto ciò, è molto più aggressiva, no? Ogni tanto, forse, dall'altra parte della medaglia, forse troppo, no? Però, comunque sia, arrivo a Chieti, gioco, provo ad inserirmi in questo metodo di gioco che non funziona per me, perché anche lì stavo giocando bene. Però, io vedo sempre del positivo nella scelta del mio team, ovviamente, il mio agente intelligentemente ha messo la clausola del se una squadra di Serie A mi vuole, durante il campionato io posso andare con un determinato buyout. Varese si è presentata, anche lì puoi chiamarla fortuna e preparazione, però sono stato fortunato a trovare un GM che fosse americano e, quindi, anziché contattare quelli di Chieti, hanno contattato quelli di UVA, che, ovviamente, conoscendomi, sapevano che tipo di giocatore fossi e non era una questione di sì, questo giocatore a Chieti ha fatto così e quindi non lo prendiamo. Allora sono andato un po' più in profondità, che è stata la mia fortuna, e, infatti, poi sono andato a Varese e a Varese si sapevano gli schemi. Abbi, secondo me sta roba, a parte, è strano ma non troppo strano il fatto che tu abbia fatto meglio in A1 che in A2, alla fine, perché tu quando sei arrivato a Varese hai fatto bene, quasi meglio di quello che hai fatto in A2, no? Secondo me dipende dal fatto di essere d'accordo che in A2 ti viene richiesto, il livello di A2 non è basso, non è facile giocare, al contrario di quello che qualcuno pensa, non è facile giocare. E in A1 probabilmente ti viene richiesto di fare meno cose ma fatte bene, mentre magari in A2 ti viene richiesto di fare un po' di tutto, di arrangiarti e di dover risolvere tante situazioni, quando magari c'è di fronte ai giocatori buoni. E quindi quello secondo me è il motivo principale per cui un giocatore, tu in questo caso, ma in generale, è più facile che faccia bene. Non più facile, ma può capitare che faccia meglio in A1 che in A2 se è un giocatore forte. È verissimo, cioè io sono un giocatore a sistema, a Virginia ad esempio avevamo un sistema, eravamo odiati da tutti perché c'era un sistema, un sistema lento che andava a trovare il miglior tire possibile nei 24 secondi. Cioè era sempre una cosa così e in difesa invece era una cosa dove rimanevi a 55 punti, eccetera. Quindi è una roba di dettagli, esecuzione, esecuzione, esecuzione. Come dici tu, devi essere più, io penso che sia una questione anche di creatività, devi essere molto più creativo in A2 per cercare di risolvere situazioni che si presentano non così spesso. Però posso farvi una domanda? Voi avete detto che bisogna essere creativi più in A2, ma non è che magari c'entra molto dal ruolo? Cioè nel senso che magari in A2 si è prima punta e quando vai in Serie A non sei più la prima punta. Però ad esempio anche la prima punta in Serie A deve essere un po' più creativo per gli altri. Decidermente, no, no, non fa una piega neanche questa osservazione. Io ti faccio un esempio di me stesso. Io ho fatto gli anni che facevo 20 anni di media di A2, dopo in A1 non potevo stare in campo. Perché facevo il bombardiere, però in A1 non potevo stare in campo. Sì, non potevo, facevo fatica a stare in campo. Quindi, perché io non sono giocatore di sistema. Io, boh, mi piaceva fare il bond. Capito? Quindi è diverso. In A1 non stavo in campo. È così, purtroppo. Bisogna essere dritti. No, ma ci stava assolutamente. Infatti questa cosa qui è giusto analizzarla perché secondo me tanti non capiscono. Anche quando spesso capita che magari i giocatori vanno in A2 per cercare di aiutarli per andare in A1, no? Verso fine anno con i playoff come Logan l'anno scorso. Però non è scontato che questo qua fa la differenza in A1, poi va in A2 e boom, andate, si va in A1, no? Non è così e si vede alla grande. Comunque, Thomas, invece, bravo che ci hai spiegato di questa transizione che è partita dal college, no? Volevo rimanere un attimo lì, no? Perché è un'esperienza che io ho sempre voluto fare ma che non ho mai avuto l'opportunità. Come... perché hai voluto andare al college? Cioè, perché hai voluto prendere questa scelta di andare in un college americano? Molto banalmente l'influenza americana nella nostra vita è molto prevalente. Guardi i film e dici, cavolo che vita che fanno. Volevo testare questa vita. Giusto. Quindi appassionandomi poi a pallacanestro, no, ovviamente i grandi, i cobi, tutti gli altri vivevano lì, facevano le cose lì, allora volevo sperimentare. E quindi ho sempre avuto questa... Ho sempre avuto questa voglia di andare e provare la vita americana. Questo è stato il motivo primario. Poi, ovviamente, ci sono tutte le altre cose positive che impari la lingua più facilmente, impari una cultura diversa, conosci gente in tutto il mondo. Quindi ci sono tanti benefici nel passaggio. E anche una cosa ti sei dimenticato, la mentalità, no, nel gioco, perché la competizione, perché, Tommy, tu non lo sai, ma ti racconto questa. Quell'estate lì di due anni fa, quando eravamo a giocare lì, dai da Move, stavamo giocando tipo per un'ora, anche un'ora e mezza, no? Avevamo fatto tipo tante partitelle. A una certa avevamo detto, eravamo tutti d'accordo sul finire e Thomas fa in inglese. What? Let's do another one! Io faccio, no, bro, dai, è finita. Io non ne avevo più perché ero fuori forma. I'm done! Però sì, assolutamente. Infatti, apprezzo molto questa cosa che hai detto, perché comunque, oltre ad apprendere la lingua, eccetera, secondo me hai anche appreso la mentalità del trash talk, no, della competizione, cose che qui in Italia, ad esempio, non ti insegnano. Questo è verissimo, cioè, quando parlo di cultura è proprio anche quella, non solo il trash talk, ma proprio la mentalità con cui affrontano difficoltà della vita o altre cose. sono molto più positivi, cioè, più c'è questa energia positiva che gli dà forza per sorgontare una montagna. E tu dici, vabbè, cioè, da italiano, dici, questi qua sono demontati. Però, in fondo, cioè, ci credono, è una cosa per loro, non danno fastidio a nessuno se credono nelle loro potenzialità o credono di riuscire ad arrivare in un punto più in alto di quello che potrebbero mai. e forse, grazie a questa mentalità, arrivano dove non potevano se avessero avuto un altro tipo di pensiero. Quindi, cioè, cavolo, bravi loro, nel senso, se la credono, è vero, gli funziona, gli funziona. Infatti, infatti, fateci caso, cioè, tanti italiani odiano i video motivazionali. Cioè, io guardo un po' i video motivazionali, no? E guardo anche i commenti. Io, quello che vedo spesso è che l'italiano comunque non piacciono questi video motivazionali. E spesso discuto anche con Antonio Di Chelle, non so se lo conoscete. Ci discuto spesso di questo, no? Che lui dice, eh, l'America, cose motivazionali che se ti impegni ce la fai sempre. Però, secondo me, questi video motivazionali o queste persone che sono esperte nel motivare le persone, comunque, come hai detto tu, comunque aiutano le persone a crederci sempre di più. Poi magari uno non arriva a dieci, ma comunque è arrivato a otto, capito? Il suo goal è arrivare a dieci, comunque è arrivato a otto, finisce e dice, cazzo, però sono arrivato a otto. Capito? Quindi, secondo me, questi video qui, questi discorsi che fanno, possono aiutare, non possono aiutare. Comunque a me, personalmente, mi hanno aiutato nei miei momenti dark. Quando io ero con la gamba ingessata, quando io ero lì in ospedale, io mi massacravo di sti video. E mi pompavo, no? Eh, guarda dove suona adesso. Eh, sì, sì. No? Eh, quello che chiamano self-taught, no, it's not self-taught. Ma quando ti auto-parli, no? Ti auto-incentivi. Però se ti dici delle cose negative, scusa, che tipo di energia potrà mai darti? Invece dici delle cose positive, ovviamente dici, vabbè, sotto sotto potresti anche non crederci, però è già meglio che perdere sin dall'inizio. C'è una roba, Abbi, che secondo me, di andare al college è devastante, ovvero il fatto che noi a vent'anni, diciamo, diciotto anni, giochiamo da fronte a papà e il nonno e i due amici della scuola, se vengono, e poi quando arrivi a Varese di turno e c'hai cinquemila satanati che ti gridano, magari ti cagli addosso. Lì a diciotto anni giochiamo da fronte a quindicimila persone. Quella roba lì per me è iper, iper formativa. Cioè, abituarti a giocare davanti a tanta gente con la pressione di quelli che ti guardano, noi non ce l'abbiamo finché non arriviamo a professionisti e neanche tanti alcune volte. Lì invece quella roba lì ti abitua un botto a essere sotto pressione, cacchio. O no? No, immagino di sì, perché vivendolo dall'interno sei già euforico di essere lì, quindi non riesci neanche a fare lo step back e capire la situazione. perché sei dentro alla scuola, poi agli allenamenti, poi l'aereo privato che ti porta da una parte all'altra, cioè sono dei concetti che solo grazie all'esperienza che ho fatto potrò mai dire che esistono, perché se no è una roba da film, cioè non ci crederesti mai. E invece quando tu sei approdato lì al college, qual è stato il tuo primo goal? Cioè tu quando sei andato lì, qual era il tuo obiettivo? Cioè finire gli anni, provare a essere draftato, ritornare in Europa da protagonista? Cosa aveva in mente di fare Thomas? Il mio obiettivo quando sono andato in America, come dicevo, tramite comunque i film, americani, la vita americana, era comunque il sogno più grande, quello di arrivare in MBA, no? Però ovviamente nel mentre c'erano tutte queste esperienze che valevano la pena vivere e quindi semplicemente la speranza era quella più alta, ovviamente, però poi nel caso in cui non dovesse andare, sapevo che sognare in grande mi avrebbe comunque garantito un buon atterraggio, cioè mio nonno diceva la sogna alle stelle, arriverai alle nuvole, no? Cioè a caso mai, a così caso di arrivare in nuvole, se proprio non vado a me. Che non è male arrivare alle nuvole, eh? Infatti, 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 quindi sono super contento di come sta andando il mio percorso. E tra l'altro, cioè tornando alla mentalità americana, questi due giorni è venuto a farmi visita un mio compagno a distanza dell'high school. Ed è assurdo come semplicemente due giorni assieme a lui mi abbia riaperto questa super passione, adrenalina nel raggiungere i miei obiettivi. Cioè solo due giorni a fare delle chiacchiere con lui mi ha risvegliato, capito? Cioè questa è una cosa incredibile. Solo anche semplicemente parlavamo della difficoltà del mio anno, no? Io molto onestamente gli dicevo tutti i miei problemi, tipo che sono, tante volte mi trovo geloso dei miei colleghi, no? Cioè come loro invece stanno avendo successo, io faccio molta fatica, sebbene sappia di essere comunque un buon giocatore, no? E lui comunque, tra una cosa e l'altra, parlavano dell'ego, di come siamo, cioè tutto quello che pensiamo, facciamo, è dettato dal nostro ego, quindi sarebbe importante fare un passo indietro, di staccarsi, cioè tutte cose che sono veramente profonde, sebbene noi pensiamo così in maniera mediocre di un americano, no? americano medio è stupido, no? Però ce ne sono tanti gli americani, un po' i generalizzati tanto, ma poi ne trovi alcuni che hanno questa fuga nel arrivare a successo, ma buona, capito? Quindi vabbè, vomitati. Perché l'ambiente nostro, l'ambiente italiano ci affossa forse, cioè ti senti un po' che ti tappa le ali. Sono contentissimo della cultura italiana, di vivere in Italia, sebbene ci sono cose positive nella cultura americana e cose positive nell'italiana, a questo punto sarebbe importante riuscire a decidere con le pinze cosa prendere da entrambe le culture, no? Giusto, giusto. E una del self-confidence con l'americana, senza altro. Guarda, Thomas, cioè sposo pienamente quello che hai detto, io ho vissuto, davvero ho avuto tante cadute nella mia carriera, però sono qui. Una volta stavo facendo riabilitazione e c'era questo grandissimo ex giocatore, che non mi va di menzionarlo, perché magari non vuole, e un giorno mi fa, ma tu vuoi tornare in nazionale? E gli faccio, certo che voglio ritornarci. Allora devi lavorare sette volte più degli altri, no? E lui quando mi ha detto questa cosa qui, guardandomi negli occhi, mi ha davvero preso, no? Nel mio orgoglio, ho detto, cavolo, sto perdendo tempo, no? E allora da lì ho avuto un cambio, no? Di ritmo. Poi un giorno siamo andati a pranzo insieme, abbiamo iniziato a mangiare e gli dicevo le stesse tue cose, cazzo, sono qui, sono fermo, vedo gli altri aver successo, quello lì che gioca, quello lì va in quella squadra, quello lì va in quel campionato, quello lì va in nazionale, quello lì, io vado sempre indietro e loro vanno sempre avanti. E lui sai cosa mi ha detto? Non ha detto nient'altro, giuro, non ha detto nient'altro, l'unica cosa che ha detto è Abì, la cosa che conta è il traguardo, la fine, alla fine poi possiamo parlarne, perché come dicono nei video motivazionali, se tu sei al primo posto oggi non significa che sei al primo posto domani, capito? È questa cosa qui. E tante volte nei nostri momenti no, parlo degli sportivi, nei nostri momenti no, non capiamo questa cosa qui che oggi non significa che sarà anche così domani, capito? Quindi super quello che hai detto. no, sì, tenacia e cercare di comunque vedere l'orizzonte, non quello che ci sta di fuori. Ciao Abì, vado a allenarvi. Va bene, salutiamo Tommy. Ancora siete partite, poi è finito. Ciao ragazzi, mi lascia solo. Mamma mia, questo magone, basta. Abì soffre più di me, abì soffre più di me, soffre più di me. Certo, perché io adoro questo gioco, quindi so. Ciao Tommy, grazie. Eh beh, grazie anche io, prima o poi lo devi salutare. Ciao ragazzi, ciao. No, parlavamo, prima che tu entrassi parlavamo del fatto del fine carriera, no? E lui sta per lasciare il gioco e quindi soffro come lui di questa cosa qui, perché comunque nel mio infortunio ho vissuto il fatto di essere, di non giocare forzatamente, cioè non potevo più giocare. E quel vuoto lì, credimi, è dura, è dura, però con la tenacia, come hai detto tu, con il self-confidence, con il fatto di parlarsi dentro aiuta un botto. e volevo chiederti questa curiosità, come prepari le tue partite mentalmente, se lo puoi dire? Sì, sì, sì. Le partite, non ho una routine, non ho un pre-partita, non ho una cosa che faccio sempre, ho un rito, affronto le partite per come vengono, cioè come mi sento, anche non so, semplicemente il nap, no? La pennichella, prima, se sono stanco lo faccio, se no no. Non so se sia il metodo migliore per affrontare le partite, conosco tanti i miei compagni e colleghi che invece hanno una routine e così gli favorisce la maniera migliore per stare concentrati sulla partita a venire e altri metodi. Io sono sempre, non lo so, sono, ho sempre comunque quella sensazione del, dopo una partita che gioco bene, ripenso a quello che ho fatto, come se ci fosse questo magico momento prima di una partita che, ah cavolo, aspetta, ma durante shoot around, ho tirato più tiri da sinistra che a destra, allora quello sarà stata la ragione per cui ho giocato bene. E, cioè, è molto tossico come pensiero, però, non so, è evitabile che mi venga, perché proprio, cavolo, ho giocato bene, ho questo obiettivo di giocare sempre bene, quindi cerco soluzioni nel, non so, a capire. Quindi, tante volte cerco di evitare di avere una routine solo perché poi non voglio dare una colpa a un qualcosa. Certo. Io, io sincero, io la mia routine ce l'ho, assolutamente, e ce l'ho da anni, cioè, quella è la mia routine. Ma perché ho la mia routine? Non tanto perché mi fa giocare bene o mi fa giocare male o perché sono la scaravanzia. No, non è per quello. È perché così so che la mia giornata è così, so che va così e così mi prepara per la partita. Indipendentemente con chi contro, anche l'importanza della partita, io la mia routine l'ho sempre avuta e mi ha aiutato. Io addirittura penso, se ho sbagliato a mangiare, il motivo per cui mi ha fatto giocare male, no? Cioè, è incredibile le seghe mentali che uno si fa prima di una partita o post partita, è pazzesco. E vedo che tra di noi colleghi siamo tutti uguali, come quando hai detto della partita, no? Cazzo, ho fatto quel canestro, ho fatto quel layup, quel tiro da tre. Cioè, è bella quella sensazione, però è anche pericolosa, Thomas. Perché io, tipo, vabbè, tu, voi, siete ancora in Coppa? Ok. Sì. Ormai si giocano tante partite, bro. E giocando tutte queste partite, tante volte, a me non do, soprattutto quando ho giocato bene, non mi piace stare lì e pensare troppo a quella partita, perché magari 48 ore dopo c'è già un'altra, capito? Più importante, o anche se fosse meno importante, comunque devi già pensare alla prossima. E quindi quella roba lì è anche un po' pericolosa, a mio riguardo. Però è normale, è giusto che ti goda anche quello che tu hai fatto in campo, i sacrifici che hai fatto, che ti hanno portato a giocare bene. Credo che sia giusto, no? No, sono d'accordo. Poi ognuno ha il proprio pensiero e il proprio metodo per affrontare le cose. No, ma guarda, assolutamente. Ma infatti mi fa molto piacere sentire come tu prepari le partite, come non le prepari, come ti senti, come non ti senti. Secondo me è giusto? È un motivo per cui... Sì, la logica dietro a questo è di affrontare le giornate tutte, tutto uguale, no? Cioè, senza avere una giornata diversa da un'altra, io lo faccio per... cioè, non fingere una brutta parola, però... numbness, no? Like a una... che sia una linea dritta, no? Senza... Not too high, not too low. Uguale, bravo, uguale. È una giornata di un'altra e quindi è quello che non ho mai iniziato una routine per una partita. Poi... Sì, no, ma sai cosa? Sì, no, sai cosa? È che, ad esempio, noi giochiamo talmente tante volte che le giornate sembrano tutte uguali. Quando fai 80 partite, credimi, Thomas, diventa difficile fare anche cose diverse, cioè... quindi magari se voglio fare una cosa che ne so se devo uscire a cena, magari non lo faccio la sera prima della partita, la faccio dopo la partita o due giorni prima, perché preferisco stare a casa, rilassarmi, decompress, come dico con alcuni miei compagni di squadra. E... Vai, vai. Te come vivi la vita al di fuori della palacanestro? Cioè, per come... per come... secondo me il mondo ci vede come... Vai, sì. Come... come fai a distaccarti da questo pensiero? Uff, bella domanda. E ti ringrazio di avermela chiesta. Allora, secondo me ci vuole tempo per distaccarsi da questa cosa. A me ci ha voluto davvero tanto tempo, cioè... mi ricordo negli anni tra Cantù e Milano, ovunque andavo, era abigiocatore, abigiocatore, ma non parlo delle altre persone, ma parlavo di me stesso. Poi ho avuto questo cambiamento, e questo cambiamento l'ho avuto soprattutto quando mi sono sposato subito dopo, quindi da Brescia in poi, ho iniziato a cambiare mentalità. Nel senso, mi son detto, ok, sì, sono un giocatore, sono questo, però il giocatore non può essere... non posso essere giocatore 24 su 24. Arriva un momento in cui devo separare. E allora ho... ho iniziato a capire che... alla fine della fiera siamo... abbiamo due personalità, no? Secondo me. Perché ciò che tu sei in campo non sei fuori dal campo. Cioè, quella rabbia che uno... quell'agonismo che uno usa in campo non lo usa fuori dalla vita. Non è che vai da uno... non so, quello che vende il gelato e fai trash talk, capito? Non è... non funziona così. Quindi fondamentalmente io ho iniziato a separare le due cose. E ti dirò, questa cosa qui mi ha... mi ha aiutato molto. Mi ha aiutato anche molto a vivermela meglio. Perché... sentivo proprio un... la puntata di KG con Paul Pierce e parlavano che ti... la cultura cestistica ti insegna a tirar fuori il tuo Hulk, capito? Quella rabbia che hai dentro, quell'aggressività, ma non ti insegna a... a tranquillizzarlo Hulk, no? Quindi dopo una partita, come star più tranquilli, come spegnere con calma quella aggressività, quella competizione. Cioè, non ci insegnano questo, capito? È per quello che parlavamo anche prima del post carriera o di quando uno sta fermo per tanto tempo. Quando tu non puoi più tirar fuori quel Hulk che hai dentro, diventa dura. Credimi, diventa dura. Cioè, non sai dove sfogarti. Quindi fondamentalmente io da Brescia in poi ho iniziato a cambiare, ho iniziato a separare le due personalità. A B giocatore rimane lì. Sia che si vince, sia che si perde, sia che giochi bene, che giochi male, ok, ti incazzi un po' in spogliatoio, poi a una certa dico, ok, basta, move on. Ormai non posso più farci nulla. E quindi... Vai, vai, vai. Ha un grande senso. Però volevo tipo ad arrivare al... Cioè, io ad esempio, molto onestamente, mi sento un po' sotto pressione da... Dalla gente, cioè dai tifosi o comunque da chiunque segue la palla a canestro ad essere sempre quel giocatore, cioè quell'atleta, no? Perché ovviamente loro ci... È un dato di fatto. Ci conoscono. E quindi ci conoscono però nel campo. Come dici tu, cioè ci sono due personalità. Loro conoscono una singola personalità. E quando tento di comunque essere me stesso, c'è sempre qualcosa dentro di me che dice... Ritornando a, non so, metti in caso, ieri sono andato a cena fuori e... Oggi ho allenamento e mi alleno male. Involontariamente sento come se stessi facendo qualcosa di sbagliato. Cioè, pensi il motivo per cui ti sta allenando male è perché sei uscito ieri. Pensi questo? Cioè, do talmente tanto potere al pensiero dei tifosi, della gente che ci segue, che, diciamo di cavolo, cioè effettivamente se avessi fatto l'atleta, no? Se avessi fatto il giocatore, sarei dovuto uscire. E quindi, cioè... Allora, guarda, ti dico, ti dico. No, 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 sono d'accordo con te, guarda. Una cosa ti posso dire. Io ho sentito tante storie dei giocatori NBA, no? Che noi guardiamo ogni giorno, li seguiamo. Però tanti giocatori NBA, quando vanno in trasferta... Gallinari ce lo disse anche nel podcast, se atterrano, che ne so, a New York, tu pensi che stiano in hotel? No, la gente esce, esce. Giorno prima della partita. Tu pensa, noi europei, giorno prima della partita non puoi uscire a mangiare fuori. Praramente succede. Invece là fanno di tutto. Cioè, capito, ritornano tardi, alcuni, e poi perché tanto non c'è allenamento alla mattina e poi alla sera si gioca. Perché? Perché la vivono più tranquillamente. Quindi un consiglio che ti posso dare da esperienza è, devi riuscire a imparare il modo e il metodo, lo troverai tu, a separare le due cose. Cioè, quello che fai fuori, perché non è che fai una vita che ti, come dire, sregolata. Tu non sei quel tipo lì, lo so. Quindi, secondo me, devi imparare a cambiare, no? Cioè, ok, io sono fuori, faccio questo, esco, mi vedo con i miei amici, vedo la mia famiglia, faccio questo. Tu sei quello. Ma poi c'è Thomas, giocatore, che non c'entra niente con la vita personale. Poi sì, devi mangiare bene per giocare bene, devi dormire bene per giocare bene. Però un consiglio che ti posso dare è, cerca di dar meno peso alle parole dei tifosi, delle altre persone, perché tu ormai sei esperto. Hai abbastanza esperienza alle spalle. Non c'è bisogno che ti diciamo noi cosa devi fare e cosa non devi. Ci sono i tuoi assistenti, sei capace, puoi analizzare le tue partite, ce l'hai la testa per capire, ok, non ho fatto bene quello, non ho fatto bene questo. Quindi, secondo me, se impari a separare le due cose, vedrai che la vivrai meglio. Poi un'altra cosa che io faccio è non leggere i commenti, non leggere le notizie, non leggere i giornali. No, infatti, quello non lo faccio proprio. Non mi piace perché poi, conoscendomi, so già che poi rimuorgi me, eccetera. Però, non so, anche comunque come dicevi tu, determinati podcast americani, cioè quello di Lebron, I'm more than an athlete. Comunque, quel pensiero lì è, alla fine, sembra essere comunque comune tra noi atleti, cioè alla fine sono più di un atleta. Ma certo, ma certo, quindi un'altra cosa che potrebbe aiutarti è cercare, trovare, magari ce l'hai già, un qualcosa che, mettiamo caso che domani finisce la stagione, ok, cosa fai? Ti alleni e basta, no? C'è il tuo hobby. Quindi, secondo me, anche avere un proprio hobby, poi che sia una passione, che sia un hobby poco serio, che sia un hobby serio, tipo come vedi me con il podcast. Comunque questo fa, credimi, cioè io ogni tanto è capitato che magari ho fatto partite della Madonna, arrivo a casa, devo preparare la puntata di domani. E quindi non sto neanche più a pensare alla partita bella che ho fatto, o alla partita brutta, penso e poi ho anche la famiglia, ho mia figlia, quindi quello anche aiuta. Però comunque avere un hobby, avere un qualcosa al di fuori della palacanestro, aiuta un botto perché non stai lì solamente a pensare alla palacanestro. Perché l'abbiamo detto, pensare solo, solo quello, alcuni possono farlo, ma a tanti diventa pesante pensare solo a quello, capito? Quindi secondo me anche avere un hobby può aiutare, se ce l'hai, ovviamente. E qual è il tuo hobby, visto che parlavamo di questo? Hobby, beh, io sono, cioè a me piace molto l'arte, essere artistico e creare robe matte. E ultimamente sto facendo vestiti. Wow! Sto facendo vestiti per me, ho la macchina da cucire, vedo un modello che mi piace, me lo monto. Wow, fantastico, davvero. Allora un giorno, ah, un giorno, allora me lo farai vedere, me lo manderai questo, perché anche noi, anche noi con Step Out siamo usciti con l'abbigliamento. E mi, sì sì, stiamo iniziando, roba molto easy, ovviamente io vorrei ampliare ancora di più lo stile streetwear, però it takes time, investimenti, richiede tempo. Però credimi, bravo, cioè se è questa la tua passione, vai, cavolo, cioè se ti piace. Cioè in realtà a me piace un po' tutta l'arte, cioè due mesi prima stavo dipingendo, ancora prima stavo facendo interior design. Puoi unire le cose. Sì sì, mi sono lavorato in interior design, quindi faccio le cose per la casa, cioè cambio, vario spesso, solo perché mi piace, mi piace creare, cioè non ho obiettivi molto più lunghi di quello che sono, cioè io potrei domani appassionarmi a qualcos'altro. Bello, ma infatti è giusto, c'è chi segue anche il vento, secondo me così ci sta, perché no, cioè non è che devi, magari stai sperimentando tutte queste cose per trovare realmente quella cosa lì che ti accende il fuoco, al di fuori della palacanestro ovviamente, perché comunque quando sei in campo con quel pubblico lì il fuoco esce, quindi no, tanta roba, davvero. Thomas, a me mi ha impressionato molto il tuo modo di pensare, la tua mentalità, continuo così, non cambiare, indipendentemente dalle difficoltà, devi darci dentro. Volevo chiederti questa cosa qui, che messaggio vuoi lasciare ai tuoi fan e ai fan di Step Out? Non so se è un messaggio o altro, però in realtà volevo lasciare un pensiero che ho avuto poco tempo fa con un amico al telefono, e lui mi raccontava come, cavolo, questa cosa devi comunicarla in un modo o in un altro perché lo sento nella tua voce che vuoi dirlo. Io ho fatto un paio di mesi dove non giocavo, per scelta del coach, però comunque... E l'ultima partita in casa che abbiamo fatto, ho fatto una normale partita, diciamo, ho dato il mio contributo, ho avuto un piccolo stretch dove ho fatto otto punti per dare un po' di sprint alla squadra, dare il mio sostegno, e a fine partita, dopo il solito 5 con gli avversari, facciamo sempre il nostro giro per il palazzetto e il calore che ho sentito dai tifosi era diverso. Cioè, per assurdo, nella mia mentalità, noi siamo comunque entertainer, no? Siamo intrattenuti, noi giochiamo, loro prendono un biglietto per vederci giocare, per vedere il nostro talento, la nostra abilità nel giocare alla palla a canestro. Però, per come sta andando nel mio campionato, che se lo dovessi mettere a confronto con quello dell'anno scorso, non sta andando bene, no? E quindi, di fronte a... anche tutte le volte dove sono stato seduto e non ho giocato le partite, però io ho sempre rispettato i miei tifosi e ho sempre applaudito. Però, non so, mi hanno visto in un altro modo, cioè, sembrava quasi che mi vedessero per chi sono, non per il giocatore. E ti giuro che quella è una delle emozioni che mi terrò proprio fino alla fine della carriera, perché è stato veramente emozionante vedere la gente che mi vedeva. Cioè, ci sono state partite proprio veramente dove non ho toccato il campo, comunque la gente mi stava a sostegno e tutto il resto. E quella partita lì, loro, anche loro, sembrava quasi che fossero sollevati dal fatto che io avessi giocato bene e che l'abbia mostrato di fronte al pubblico di casa. Non so, forse faccio ancora fatica a spiegare... Non c'è problema, no, 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 si capisce molto bene la differenza. E secondo me il pubblico ti avvicino perché sa quanto tu, comunque, sei uno competitivo, vuoi giocare e non è facile stare seduti e guardare gli altri. Quindi secondo me anche per quello, poi il pubblico di Varese è un pubblico che ci tiene ai propri giocatori. Quindi sei fortunato anche di essere lì, che quindi quando entri in campo è facile avere quel fuoco, no? Quindi super, 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 complimenti e avanti tutta. Grazie di tutto. Insatto. Grazie mille per l'invito e a presto. A presto. Grazie mille per l'invito e a presto.